Ne hanno passate tante dall'apertura dei cantieri, nuovi scolmatori della Sassonia, quello di Viale Ruggeri e di Via del Bersaglio. Stop e ripartenze dei lavori per stagioni balneari, tubi che una volta posizionati non sono voluti stare al loro posto e che sembravano mostri marini in immersione e come non ricordare lo stop dovuto al caso nazionale del ritrovamento dell'ordigno bellico nel cantiere di Viale Ruggeri che ha causato la mega evacuazione in una notte degli abitanti della zona rossa. Ora proprio quel cantiere, terminati i lavori, vede la luce in fondo al tunnel e si avvia alla sua entrata e piena in funzionalità. Segno di ciò le due boe gialle a 300 metri dalla linea di costa che segnano il suo sbocco a mare. Per cui aspettiamo le prossime piogge per collaudarlo e dopo a tutti gli effetti entreranno in funzione. Come sempre il tempo è galantuomo, tutte le cose che abbiamo annunciato si stanno realizzando e questa è veramente un'altra bella risposta che tutela la spiaggia, tutela l'ambiente e tutela anche le attività balneari. Tutto pronto quindi e come da previsioni nella giornata di oggi la pioggia ha consentito di fare un test dell'impianto. Allora siamo a buon punto, intanto gli scolmatori, quello di Viale Ruggeri è entrato, abbiamo fatto i primi test stamattina, quello invece in Viale è praticamente vicino in prossimità dei Cocard, ancora dovrà essere allacciato e quindi ci vorrà un'altra settimana. I primi test sono estremamente positivi, l'abbiamo fatto in base purtroppo alle capacità idriche causate appunto da queste precipitazioni che non sono state molto intense, quindi abbiamo dovuto fare il test praticamente con l'acqua che avevamo a disposizione e i risultati sono estremamente positivi, quindi continueremo a monitorare la situazione, continueremo a fare ulteriori test finché non avremo la prova definitiva quando faremo lavorare a pieno regime la struttura in seguito a una maggiore affluenza di acque meteoriche e quindi per adesso siamo contenti di quello che abbiamo fatto.